Gravi ripercussioni sulla salute a causa delle concentrazioni di ozono in pianura padana. A Cremona i livelli sono in aumento con una media dei giorni di superamento delle concentrazioni limite indicate dalla legge che è cresciuta del 26,9% in 10 anni. Seguendo gli ultimi dati ISPRA e ISTAT nel 2019 a Cremona i livelli sono stati superati per 95 giorni, mentre a Crema addirittura per 122. La quota limita è per la protezione della salute, fissata a 120 microgrammi per metro cubo sulla media di 8 ore. L'anno scorso è stata superata a Cremona per 59 giorni, mentre le concentrazioni sono passate da una media di 52 microgrammi al metro cubo nel 2010 ai 66 dell'anno scorso. Un aumento che rappresenta una magra consolazione di fronte al superamento spaventoso registrato da Piacenza che sfiora il 194,1%. Per una volta dunque Cremona cede la sua maglia nera senza tuttavia farsi mancare gli effetti sulla salute. Sostanzialmente agisce sull'apparato circolatorio, quindi sull'apparato cardiovascolare e soprattutto sull'apparato respiratorio. Agendo poi anche in modo indiretto con un aumento del rischio anche sull'apparato nervoso, soprattutto con l'aumento a volte dell'ipertensione arteriosa o comunque causando anche del lictus per vasocostrizione. Ma gli effetti più evidenti e più studiati anche sono quelli sull'apparato respiratorio. Può facilitare ovviamente le broncopneumopatie cronico-ostruttive, le può aggravare, così come può aggravare l'attacco di asmo o comunque la frequenza degli attacchi. Questo anche nella popolazione pediatrica accade. E poi ha un pesante interferenza anche con le cellule del sistema immunitario, soprattutto quelle dei sistemi immunitario innato, che sono le prime delle vie respiratorie a difenderci. E se visto che c'è una modificazione sia dei macrofagi sia dei linfociti, con un vero e proprio aumento dell'infiammazione delle lesioni, perché ha un effetto ossidante molto forte, agendo anche sulle cellule appunto che classicamente ci dovrebbero difendere in senso immunitario. Grazie